Noa è Euralumina. Ma te e santa fai giovia decide questi mesi e l'ompia sa de noi manifestata da cominciare del suo primo e del suo mese la dame di Passau, poi billai se ne va uso su cammino dentro incontro dei normas e leisi che arregulano questa materia. Pustisi del suo deposito disintegrata dal suo progetto, del suo quindici e del suo mese Passau, il suo cammino istruttorio del suo santa Disi, commenta anticomunicato ai mattesi traballadorisi del suo assessorato regionale a San Bienti, è partito in maniera ufficiali su 29 da Capodanni Passau. Sabilla da Sighi, a Tottudenta, povarti dei straballadori se ora allumina. Gal Zulcisi, subintotto dei suoi mesi Passau, sa regioni Sardegna, da cabausa sceda dei gruppi su dei vaina locali, si estannai i Gal e i mesurasi del crescimento locali. Superano dei faina, sa desu Gal, Zulcisi, Gresienti, Capuderra e Campidano de Castello, scrittosi che indicano il suo appello in sola del suo processo partecipativo che ne partecipa a Contada, danta valoravo in maniera positiva e ammettio ai si finanziavo, cadutento su un teggio massimo che donant a un territorio. 92 punti su, degusti su 90 vostra qualità di dei faina di crescimento e 2 vostra caratteristica oggettiva su del suo logo. Un risulto manummedo avrutto del suo gruppo che doi ha traballato, imprese agricole, sozioni di categoria, istituzioni pubbliche e senti locali, si scolasa, cooperativa sociali, si centro su De Girca, agenzia formativa, sa e cittadino su chi andrà contribuì con ideas e proponimentosi solo andi bogai i fainas a degrescimento del suo logo. Ha ricordato su chi ha su Gal, Zulcisi, Gresienti, Capuderra e Campidano de Castello, danti scioverà o commenta soggetto che ha dapponinato con il suo programma leader, i fainas adentasi in conto del suo brano degrescimento rurali 2017-2013 dessa regione autonoma di Sardigna. Ammagno dei litorali urbanos, un proponimento dell'Eivo a maniare il suo numero dei comuni su vostri litorali urbanos, questo il suo proponimento di Giovanni Luizur Rubio, capo gruppo regionale UDC. Il comuno che possiede in costerra, saverò, non fu i vostri litorali urbanos, sprica da Rubio, fu obbligato a donare i permissi temporanei su voglio e concordare i strutturi a Devlaia. I spermissi di temporanei si votano di mantenere i abrile a su mesi da Damini Scetti. Con questa classificata dei litorali urbanos, sprica da Rubio, abbiamo accaduto a gastare i risultati a montare i strutturi di temporanei, permettendo ai operatori turistici di mantenere i strutturi a anno in treo. Questo proponimento interessa dei comuni di Sant'Annaresi, Gonnesa e Masua. Dimandati a vostro impreo del sudcentro Polivalenti di Carbonia. Su Comune di Carbonia pubblicano i bandi su vostra manifestata di interesse, poi imparati a posento del sudcentro Polivalenti, vostro in Prazza Prima di Maio in Carbonia, e a vostro esprosa musicalità dei Sgannauso. L'amministrazione comunale vuole destinare i gusti strutturi di vato e di diretti che si impreano i debati a associati a promuovere e maniare progetti a capire sul mondo dell'associazione e tutto, che si sono coerenti con le linee a ghia delle amministrazioni comunali. Che si riservano la facoltà di dunque, si devono valore i progetti. L'associazione ha depilato e esperienze a lungo e in faina capire sul mondo della musica, del gioco e delle educazioni dei minori, tenniseo in Comuno di Carbonia e in cui traballai. I documenti sull'usante pubblica uso in salvo pretorio in linea del suo Comuno di Carbonia, ma si vuote in tivina se agattai in i suffizio del suo servizio sociale in via dei G8 del suo mese idasa, del suo lunisa, del suo genabura, dei noi orasa a Mesudì. Poi ci commenti mandai sa dimande e altri informi su, fai doggiai su sito internet del suo Comuno di Carbonia. Accontesi da Poamatrice in Igresiasa. Su dogi dei costumessi, dove ad essi in suo stadio Monteponi di Igresiasa, tutti si impari Poamatrice. Una partita di boccia tra giocatori in mano su del suo castello e giocatori becci su del Saver Sulcis e del suo Monteponi. Sintento esti de a Giudai i bidas arruinadas ad esso sisma de Occano. Causa nobili dunca sa sarianta partecipai, nomini mannoso de su castello, de gosso a Matteoli, de gonti a Agostini, de muzzi a Pugedo, de vesta a Cavezzi, esposi, tovini e macellari. Chi esti su che a Concordau sa contessida. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS